Allora, vediamo se ci sono le tartarughine. Facciamo una prova. Ci sono le gughine. Gughine. Non ci sono le tartarughine. Ecco dove sono. Ecco dove sono le tartarughine. Ehi. Che belle le gughette. Guarda. Adesso andiamo a vedere un po' di panorama. Lo spettacolo infinito da qua. Andiamo a vedere Pilla Durazzo. Andiamo a vedere Pilla Durazzo. Pilla Durazzo è fatta così. Andiamo a vedere Pilla Durazzo. 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 Pilla Durazzo. Andiamo a vedere Pilla Durazzo. Grazie a tutti.